Dopo aver solvolato le aree percorse dal fuoco nel comune di Rio ad agosto scorso, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha presieduto un vertice con il prefetto di Livorno Paolo Dattiglio, il sindaco di Rio Marco Corsini, il capo della protezione civile toscana Giovanni Massini e il comandante regionale dei vigili del fuoco Marco Frezza. Il problema ingenti riguarda non soltanto l'Europa ma il mondo intero. Ancora oggi siamo soccomventi, servono non soltanto strumenti sofisticati che la tecnologia mette a disposizione, ma serve anche un comune e diffuso senso di responsabilità da parte di tutti. Un proprietario di terreni agricoli distratto o non curante e svogliato può essere involontariamente complice di un vero e proprio disastro. Serve una cultura del rischio che deve coinvolgere tutti, ecco perché l'appello non ci stanchiamo mai di farlo e di rivolgerlo a tutti. Ormai gli incendi dal nord al sud, in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, ovunque nel mondo, sono problemi con i quali siamo chiamati a fare i conti e dobbiamo assolutamente ridurne al minimo gli effetti. Pene più severe potrebbero essere efficaci per limitare il problema. Non solo servono, ma il governo, come sapete, ha già adottato le misure necessarie, le avevamo concordate con il collega Nordio. Buona parte degli ingenti sono di origine dolosa e quindi occorre una deterrenza e una norma di sanzione aspra e soprattutto la effettività della pena possono diventare strumenti per convincere questa gente, che io definisco delinquenti, ad esistere dai propri propositi. La protezione civile può fare la sua parte, perché i fondi per questo settore sono consolidati. Sono capitoli storici per i quali noi, in termini infrastrutturali, interveniamo con i fondi specifici, che sono quelli messi a disposizione dall'Unione Europea. Per quanto riguarda le spese di gestione non mi pongo nessun problema, perché il mio, come sapete, è un ministero senza portafoglio.